In una terra di silenzio e omertà, dove la paura spesso vince la verità, c'era un uomo che non si fermava mai, con lo sguardo avanti, sempre un passo in più. Tra le ombre e i vicoli di una Palermo che piange, con in mano la giustizia e nel cuore, il coraggio sfidava i poteri, la menzogna e la violenza, Giovanni, un faro di speranza. Era il coraggio di un giusto, la forza di chi non si piega mai, contro la mafia e i suoi fantasmi, lui camminava con dignità. Ogni parola, ogni gesto, una promessa di libertà, un uomo solo contro l'infinito, ma con un popolo che seguirà. Dalle aule di giustizia al vento, nell'autostrada, sapeva che ogni passo era una sfida rischiosa, ma con Paolo al suo fianco, fratello e amico, tracciava il cammino per un futuro più pulito. Non era solo un giudice, ma un simbolo di verità, in un mondo di paura, lui scelse l'olestà. Sacrificò se stesso, la sua vita per un sogno, di vivere la sua terra libera dal buio. Era il coraggio di un giusto, la forza di chi non si piega mai, contro la mafia e i suoi fantasmi, lui camminava con dignità. Ogni parola, ogni gesto, una promessa di libertà, un uomo solo contro l'infinito, ma con un patolo che seguirà. Non lo hanno fermato neanche quelle bombe, il suo esempio vive ancora tra le onde. Della gente che ogni giorno sceglie di lottare, con il suo nome sulle labbra e nel cuore da portare. Era il coraggio di un giusto, la forza di chi non si piega mai, contro la mafia e i suoi fantasmi, lui camminava con dignità. Ogni parola, ogni gesto, una promessa di libertà, un uomo solo contro l'infinito.